Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Questo videocorso nasce dalla richiesta di molti colleghi e colleghe che in questo periodo, direi giornalmente in occasione dei corsi di formazione, col piacere di tenere con loro in presenza o a distanza, mi chiedono questo. Quali siano cioè, spiegate nella maniera più lineare possibile, le differenze tra le tre modalità di presentazione schermo contenute nel comando presenta ora di Google Meet ed ecco che vado a mostrarvele. Sono entrato nella home page di Meet, ho cliccato sul più che sapete insomma essere il tasto di avvio della sessione, qua clicco per rapidità su continua, non ho interesse ora di inserire un codice o un nickname per la nostra sessione, adesso verremo tra un istante accolti proprio dalla nostra sessione di Meet. Ecco, mentre attendo il caricamento vi mostro che io preliminarmente mi sono già preparato una scheda del browser con contenuti web, in questo caso il mio canale YouTube come esempio, che intenderò utilizzare nella lezione sincrona e mi sono già anche aperto un documento in PDF. Perché questo? Perché i materiali da usare per la lezione sincrona si preparano prima. Io sto creando il setting d'aula digitale, cioè il contesto migliore per la lezione e devo prevenire da subito eventuali imprevisti. Come ormai sapete dai miei precedenti videocorsi qui sul canale Trainer Andrea, la videocamera è disattiva in Meet perché mi state già osservando qui. Plicco su partecipa, sono e rimarrò solo ed ecco qua il mio riepilogo insomma della sessione di Meet. Bene, andiamo a vedere il presenta ora. Pulsante in basso a destra, clicca. Le tre modalità sono il tuo schermo intero, una finestra, una scheda di Chrome. Cominciamo dalla prima modalità. Il tuo schermo intero mostra a tutti i partecipanti tutto ciò che stiamo facendo. È una soluzione che io non consiglio ai fini della riservatezza perché gli alunni vedono qualsiasi cosa venga svolta da noi sul computer, ma la consiglio come modalità a chi magari è un pochino intimorito nella gestione delle modalità, non si trova ancora a suo agio, ma vuole mostrare ai ragazzi dei contenuti. Attenzione, non va bene per mostrare in sincronia, cioè mentre loro vedono e sentono, un contenuto ad esempio tratto da YouTube. La seconda modalità invece ci interessa una finestra, clicca, perché permette di mostrare un qualunque contenuto sia in finestra. Ad esempio io ora clicco su infografica in etichetta, il simbolo del pdf, clicco su condividi e hopla. Vado a mostrare il documento in pdf che mi ero precedentemente preparato e che in questo caso, se vi fa piacere scaricarlo, è il mio progetto nazionale di educazione civica digitale, il galateo di misteri internet. Io lo uso, questo documento che poi è una infografica con dei patrocini insomma prestigiosi che mi onorano, Fondazione Franchi, Unicef Liguria, un club per l'UNESCO, genitori digitali, perché in dieci punti racconto ai ragazzi cosa sia opportuno fare prima di mettersi sul web e vedete lo sto mostrando non a schermo intero ma in piena finestra, potrebbe essere anche una finestra di Microsoft Office, software proprietario, di LibreOffice, software open source, qualunque finestra di applicazione. Naturalmente per eleganza questo riquadro meet.google.com con di finestra e bene nasconderlo, un clic su nascondi, inutile che i partecipanti ragazzi si sorbiscano quel rettangolino in basso, ok? Per cui in questo momento se io con un clic torno su Chrome e un altro clic torno su Meet, i ragazzi non lo sanno, sono focalizzati e vedono solo il pdf, non utilizzo estensioni esterne per ripartire lo schermo o non vado io a suddividere a mano due finestre, posso leggere la chat e consultare l'elenco persone. Adesso io in realtà vado sul mio stai presentando, clic, clicco su interrompi presentazione e se invece voglio mostrare ai ragazzi o ai colleghi, se siamo in una sessione sincrona, dei contenuti presenti sul web, quindi pagine internet o video presenti su YouTube ad esempio, l'unica modalità che è bene adottare è la terza, quindi clic su presenta ora e scelgo una finestra di Chrome. A questo punto in realtà questa è la scheda di Chrome, eh perdonatemi perché scheda è la singola unità all'interno di una finestra, la finestra il tutto, a questo punto io clicco su una delle schede precedentemente aperte. YouTube lo vedo in elenco perché l'ho preparata prima, l'altra scheda è quella della sessione di Meet. Io clicco, attenti bene, è già contrassegnato e deve essere così, il quadratino condividi audio e non vi aspettate comunque miracoli perché la sincronia audio-video è anche influenzata dalla connessione di tutti i partecipanti, questo è inevitabile, ok? Limitiamo la trasmissione sincrona di audio e video ai casi veramente necessari, eh mi permetto di dire. Clicco ora su condividi e in realtà come possiamo osservare, ora qua io sono sul mio canale YouTube, potrei prendere un qualunque video, avviarlo naturalmente, metterlo in pausa eccetera eccetera, e insomma qua sembra una matriosca, no? C'è cartotto dentro cartotto, per cui a parte l'ilarità ecco questa è la modalità corretta per proporre e mostrare contenuti web, Wikipedia, Focus, Treccani, quindi tutte quelle pagine web di approfondimento. Tra parentesi io ora clicco su una nuova scheda, è molto semplice passare su una scheda ad un'altra, io vi ho nominato per esempio Treccani e vado proprio a cliccare su treccani.it, il portale del sapere, bellissimo per le discipline umanistiche, il celebre vocabolario di Treccani, ed ecco qua che passare da YouTube a Treccani per noi è semplicissimo perché su ogni scheda quando clicco trovo la voce condividi questa scheda invece. Dunque sono passato in modalità assolutamente sincrona, cioè ora e subito alla home page di Treccani, gli alunni stanno vedendo solo quella, qualunque altra azione io compia, come quella di andare ad aprire ora il mio PDF, rimane privata solo per me. Quando ho terminato l'utilizzo della presentazione schermo naturalmente io posso andare sia sull'interrompi presentazione che vedo qui o ancor meglio sul pulsante stai presentando in basso a destra revocando la presentazione con un clic su interrompi presentazione. Ecco vedete che la presentazione dello schermo quindi va sempre gestita da noi. Una modalità non è uguale all'altra ma ciascuna presenta peculiarità e starà a noi caso per caso durante la nostra lezione sincrona scegliere quello che realmente intendiamo fare. Spero di esservi stato utile e soprattutto chiaro. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e vi do già appuntamento al prossimo videocorso. Buona serata!